Ciao a tutti amici benvenuti su Rainbow Six Vegas 2 in questo episodio andiamo su sclamo ferroviario in primo episodio di caccia terroristica è piaciuto molto quindi adesso andiamo su sclamo ferroviario sarà una partita molto difficile perché ci sono molti nemici nascosti in buone parti di questa grande mappa meglio grande ma più grande quindi qui c'è dissi senti però se il gioco deve fare la fetta cazzino bene bene avvenziamo prenditi cura di lui da da via via ricarico un mon E venite Dove vai? Tonna qui Ah Mi hanno assegnato C'è chiudice in qua Adesso voi li mettete qua Da dove ci vuoi sparare Fammi capire Ah Ciao Sparando Oh capì ma Se sparo meglio io che sono a 200 metri di distanza è un problema Via 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 Io li manco qua Per cui Vengo via Tanto che dobbiamo cambiare Cazzo Ma come ha fatto Non lo vengono No, mettetevi Qua Bene, viene andato Mangiamole un'altra Ah, molto Sì, andate voi gli ammazzando Posizionarsi Prepararsi a entrare Posizionarsi Allungare il passo Sì, ma Ma che cazzo sto meglio Via, via Allungare il passo Vai Vai Allungare il passo Allungare il passo Allungare il passo Ma questo è il passo Ma questo è il passo Occupati di lui Ho due compi Via Via, via, via Allungare il passo Allungare il passo Allungare il passo Allungare il passo oh cazzo è epico cazzo non è epico per il muro dai che ne mancano 4 non è niente uno uno solo per completare avvicinati tutti insieme tutti insieme il video finisce qua questo di secondo calci terroristi su una seconda mappa scalo per ovviamente mi sia piaciuto nel caso di me mettere un mi piace commentate per dimmi se volete che continui questa questo calci terroristi su altre mappe e niente grazie della visione grazie a tutti grazie a tutti